Siamo stati utili. E questo è il titolo che sottintende il contributo alla ricerca oncologica portato avanti dal lavoro della Fondazione Francesca Pierozzi che domenica 26 marzo, a partire dalle 16.30, avrà un importante momento divulgativo nell'Aula Magna Fanese dell'Università di Urbino in via Arco d'Augusto. Non solo raccolta fondi, bensì il punto d'arrivo in cui hanno condotto quei fondi raccolti grazie alle attività in memoria di Francesca Pierozzi morta di linfoma a 24 anni. E domenica presentiamo finalmente i risultati del lavoro di ricerca dei ricercatori appunto del Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Urbino. Sono alcuni anni che con la Fondazione facciamo varie iniziative, abbiamo pubblicato il libro Il Cibo Ideale, il libro Parliamo di Cibo, abbiamo dato al cibo molto valore, tutto questo per finanziare la ricerca scientifica e come ci è piaciuto dall'inizio vogliamo mostrare i dati, vogliamo renderli pubblici e quindi dimostrare il concetto del siamo stati utili noi ma tutti quelli che con noi hanno contribuito acquistando un libro, facendo una donazione. La ricerca non è finita, c'è ancora molto lavoro da fare e nell'evento apriamo appunto le porte al fatto di poter coinvolgere ulteriormente persone, aziende per contribuire all'ultima fase, perché in realtà ci manca un pezzo molto corto per poter dire che le molecole del lavoro dei ricercatori possano essere introdotte per una sperimentazione clinica che è un obiettivo molto importante. L'appuntamento prevede una tavola rotonda che domenica alle 16.30 sarà trasmessa in diretta su Rossini TV concentrandosi sul ruolo dell'epigenetica nei tumori per l'identificazione di nuovi bersagli. Abbiamo pensato a una giornata ricca di contenuti, quindi non solo i ricercatori ma al di là delle istituzioni del territorio, provincia, comune, regione. Abbiamo invitato dei referenti di Istat e Istituto Superiore della Sanità per dare i numeri, per parlare di tumori in Italia in termini di statistica e com'è lo stato della ricerca in Italia. Questo per collocare ancora meglio il lavoro che stiamo finanziando al Dipartimento di Biologia Molecolare. Poi creiamo una tavola rotonda dove diamo un po' di prospettive a medio termine del lavoro fatto e lì abbiamo ospiti due funzionari del Ministero della Salute.